L'importanza è immensa perché l'opera intanto è straordinaria, la Madonna del Divino Amore derivata dai cartoni da Raffaello, è un'opera che in un certo senso anticipa anche il cammino delle mostre che ci saranno nell'anno prossimo dedicate al maestro Urbinate, il museo della ceramica è centrale sia per Mondovì che per la provincia di Cuneo, quindi ospitare un'opera di questo genere apre al pubblico, al visitatore la possibilità di confrontarsi e di vedere un'opera non solo che porta appunto a conoscere meglio Raffaello ma anche una tecnica importantissima come quella del restauro dell'Arazzo, quindi il restauro tessile e un modo di approcciare, di avvicinarsi a un'arte importantissima che altrimenti forse qui sarebbe meno conosciuta, anche la ceramica è un'arte manuale ma che ha sempre un suo contatto, basti pensare appunto alle maioliche urbinate con l'opera di grandi maestri del Rinascimento tra cui appunto Raffaello, quindi è un qualcosa che non solo è un grande onore per noi ma è anche un modo di ricollegare il materiale che abbiamo a un mondo più vasto e più appunto più antico di quello che è rappresentato qui.